Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere la collezione di Sonic Zaini che ho comprato al Eurospin Allora, io ieri l'ho aperto l'uovo però oggi becco la sorpresa, vediamo cosa troverò Allora, abbiamo trovato, non è una figure 3D ma è una figure in miniatura Sarebbe Tails, eccolo qua, Tails E ora chiudo l'ovetto e vi faccio vedere la checklist della collezione Ecco qui Ecco qua la collezione di Sonic Eccola qui Sonic Collection Allora, ci sono personaggi però non ci sono tutti i personaggi Ci sono anche altri personaggi però non ci sono Allora, ci vediamo al prossimo video, ciao